Conoscete l'agente Gianna? Non si tratta di un nuovo rinforzo tra le file della polizia locale, bensì un servizio online del corpo municipale. Si tratta infatti del profilo social degli agenti del comune utilizzato via Facebook per le comunicazioni verso i cittadini, ma anche per ricevere segnalazioni riguardo disagio o problematiche mirate. Proprio una di queste ha consentito agli agenti, quelli veri, di monitorare l'attività di un giovane con precedenti per droga che circolava a bordo di una moto, Aprilia, di grossa cilindrata, nonostante la sospensione della patente per la violazione dell'articolo 187 del codice della strada. La segnalazione è stata dunque presa in carico dagli operatori del reparto motorizzato che dopo aver compiuto una serie di indagini preliminari anche attraverso i canali social hanno iniziato le ricerche dell'uomo e dopo una serie di appostamenti lo hanno intercettato in un locale in via dell'Istria. Si tratta di un 26enne che dopo approfonditi controlli è risultato avere, oltre all'effettiva sospensione della patente, anche dei precedenti per detenzione dei stupefacenti. Non solo, ma dopo averlo accompagnato la caserma San Sebastiano di via Revoltella, gli agenti gli hanno trovato addosso anche un contenitore di plastica con all'interno cocaina per un peso di 4,15 grammi, già suddivisa in dosi contenute in quattro involucri di nylon contenente ognuno 0,74 grammi, tale da ritenersi finalizzata allo spaccio. Dai successivi controlli nella sua abitazione sono stati ritrovati due bilancini di precisione e due boccette di metadone cloridrato. Il 26enne, visti i precedenti specifici nonché quelli per i reati contro persone e patrimonio, è stato posto agli arresti domiciliari.